17 maggio 2020, sesta domenica del tempo di Pasqua, abitati dallo Spirito, dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paracleto, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi, non vi lascerà orfani, verrò da voi, ancora un po' che il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò, e mi manifesterò a lui. Gesù promette i suoi, un altro Consolatore, lo Spirito Santo, Paraclito, ovvero che si china sull'uomo. Il Consolatore non è un surrogato della presenza di Gesù, ma il frutto maturo della Pasqua, un grande dono, il fine raggiunto grazie alla salvezza di Cristo, che finalmente ricongiunge l'umanità intera al Padre, mediante lo Spirito, che Egli dona, che il Padre dona, in un accordo di amore per un progetto di benevolenza che si china sull'umanità mutilata dalla presenza di Dio. Con il dono dello Spirito Santo, Dio abita nel cuore dell'uomo. Il centro dell'anima è abitata da Dio, vivificata, consigliata, istruita, guidata, amata, purificata, perfezionata. Il Paraclito è un altro Consolatore, poiché il primo è Gesù Cristo. Egli in forma visibile umana avvene nel mondo, discese dal cielo per l'umanità prostrata nel fango del peccato e della schiavitù a Satana. La misericordia del Padre si attua e si rivela con il suo Messia, il primo Consolatore dell'umanità stanche e ferita. Poi il secondo, lo Spirito Santo, attua alla modalità di presenza e congiunzione dell'uomo con Dio, ma assicurando quell'unità che unisce il Padre ed il Figlio in un solo amore all'uomo stesso. Ogni fedele è chiamato a vivere nell'unità trinitaria. è una vocazione alla santità, elevato ad un livello vertiginoso. Chi è abitato da Dio nel cuore, in realtà abita in Dio nel suo cuore. La fusione di amore è fusione di volontà, di bene. Quel che genere il Padre, quello che attua con il suo volere santo, è destinato all'uomo, che lo recepisce come suo, poiché ama ciò che il Padre ama, ed il Padre dona il potere di volere la sua volontà. Un cuore è perfezionato nella rinuncia di sé per l'altro, il passaggio dall'egoismo anche solo più tenue all'amore puro, tutto rivolto al bene dell'altro, fino al dono di sé, è attuazione della volontà divina, la quale è amata, voluta, adorata dall'uomo. E Dio la dona alla sua creatura, elevandola a cooperatrice del bene, suggeritrice del bene, in ordine al bene che è Dio stesso. La comprensione profonda di Dio per la sua vicinanza al cuore dell'uomo provoca un innamoramento della sua stessa volontà, e da parte di Dio il dono della propria volontà all'uomo. L'immirabile scambio avviene nel profondo dell'anima, quando tutto quello che è imperfetto è consumato, e ciò che Dio vuole è il volere dell'uomo, e finalmente il volere dell'uomo è ciò che Dio vuole. Ora tale perfezione, scambio di amore, cioè di volontà, è possibile solo cominciando qui, in questa vita, ad eseguire i comandamenti di Dio. Inizialmente essi sembrano gravosi, quali dettami esterni a noi, ardui da osservare, proprio perché la nostra volontà è attratta al basso, al peccato, all'egoismo. Con la volontà strappiamo atti di beni, ma sembra che il resto del nostro essere tenda comunque altrove. L'osservanza è gravosa proprio perché il comandamento di Dio è esterno, non appartiene al centro del cuore, del volere. L'avvicinamento e l'introduzione del comandamento nel cuore è dato inizialmente da uno sforzo personale. La volitività perseverante del nostro cuore brucia le distanze e le istanze grossolane del peccato, sia quello mortale che quello veniale. Poi, in premio del nostro sforzo, ma senza capacità o merito personale, interviene la grazia, che già ci aveva spinto a procedere verso Dio, a seguire la sua parola incarnata, la sequela di Gesù. Poi, finalmente, quando il centro dell'anima è purificato dal grosso dei peccati, Dio dona una forza attraente che porta velocemente al centro. L'anima è trascinata verso Dio, si compie il desiderio, viene premiato lo sforzo ed inizia un avvicinamento che è incentramento in Dio. Egli era lì, nel cuore dell'anima, ad attendere. La distanza era solo data dalla mia lontananza che mi rendeva i comandamenti fuori da me, come Dio, il suo amore, la sua parola, sembravano esterni e lontani. Ora l'anima scopre che il mio cuore era distante e ritrova il suo bene dentro l'anima. quel che sembrava lontano era vicino. Il cuore era distante, il volere, l'attrazione delle cose che non erano Dio, lo facevano guardare altrove. Ora tutto si compie. Nel centro del mio cuore ci sei solo Tu. Dio vi benedica.